Da una piattaforma galeggiante sbarca iFill Food Italia. Nei giorni scorsi la start-up è stata presentata sul lago di Lesina. Mario Clarendon, creative leader, Esther Fracasso, account manager e Pino Postiglione, marketing manager, hanno brindato insieme ai produttori alla nuova avventura imprenditoriale. Il progetto iFill Food Italia è una innovativa piattaforma digitale che coniuga la promozione e la valorizzazione dei prodotti locali e il turismo. Propone degustazioni virtuali interattive. Attraverso i prodotti dell'enogastronomia spediamo a casa un pezzo del nostro territorio, spiega Esther Fracasso, esperta in pianificazione turistica. e invoglieremo gli utenti a venire qui a gustarli. Abbiamo l'ambizione di espanderci su tutto il territorio nazionale. iFill Food Italia abbina ai prodotti le destinazioni turistiche e punta a inalzare il grado di consapevolezza del consumatore.